e saranno mai due gocce d'acqua non vorrei mollare le due ruote proprio ora che inizia il bello l'imprevisto va previsto la mia giacca laminata gulliver 2g è perfetta tutto l'anno a seconda della stagione stacco e metto la giacca interna e voilà sono sempre pronto a mettermi in viaggio anche se piove la costruzione hydro scud la rende 100 per cento impermeabile e traspirante a seconda della stagione